buongiorno ciao amici benvenuti nel nostro supercampeggio prima notte passata con il materassino totalmente sgonfio scomodissimo sentivo ogni sessunino sulla schiena però la cosa bella è che mio mare non ha mal di schiena sicuramente è vecchietta una mal di schiena e se andiamo a provare la spiaggia del livello no in realtà stiamo andando a cercare un bar che trasmette la moto gt e gli facciamo vedere a questi spagnoli chi è valentino rossi ecco ma sei svegliata un fiore sudato a un certo punto c'era un forno almeno è un due al prezzo di uno sauna e tenda al prezzo di uno però vediamo che si è dormito bene guardando la moto gt anche in spagna ed ecco a voi gli emigrati ti manca sono dei zoccoli in legno buongiorno buongiorno amici benvenuti a bene cassini intendevo buongiorno visto che ti sei appena svegliata dalla spiaggia anche tu tesoro dopo quattro ore di penica quasi ma questo io lo taglio nessuno lo saprà abbiamo fatto schifo abbiamo dormito un sacco abbiamo fatto compere per la serata abbiamo trovato la monster quella di rossi anche se è arrivato quarto adesso stiamo tornando alla nostra tenda il nostro accampamento il nostro accampamento con dei nuovi arrivati il nostro peggiole il nostro comprimino qui c'è la spesa per la cena di questa sera hamburger atto mangiamo ci prepariamo perché hamburger è che la tua ragazza perché è magnifica fare gli hamburger direttamente in questo caso in questo caso quando si parla questa è e attaccato mi How you feel it? How you feel it? Give me one! How you feeling it?